Siamo pienamente soddisfatti perché questo contratto comprende tutti i nostri 20 punti pubblicitati anche in campagna elettorale. Quindi parliamo per esempio dell'acqua pubblica, parliamo per esempio del superamento della legge Fornero, parliamo per esempio del reddito di cittadinanza. Sarà un governo politico, capitanato come sapete da Giuseppe Conte, una figura che comunque faceva parte della nostra squadra di ministri, che è stato legittimato con il voto di 11 milioni di persone. Anche in regione il Movimento 5 Stelle scalpita e rivendica il risultato di questo nascente governo a doppia guida con la Lega. Proprio sulla figura del premier indicato dai due leader Di Maio e Salvini si vivono però ore di dubbi. Da New York il Times ha smentito le specializzazioni conseguita da New York University dal professore di diritto civile. Specializzazioni, la difesa del movimento, che Conte non ha mai vantato. Intanto però il presidente della Repubblica Mattarella ha preso altro tempo incontrando i presidenti delle Camere e l'Europa ha lanciato l'allarme sull'eventuale matrice anti-europeista del ticket Lega 5 Stelle, la nube più grande sul nascituro esecutivo assieme alle politiche economiche e alla posizione del premier Inpectore. È una persona sicuramente stimata, è una persona che come dicevo faceva parte della nostra squadra di governo e quindi è una figura che può rappresentare entrambe le forze politiche che andranno appunto a governare il nostro paese. È una figura di sintesi sicuramente apprestata da entrambe le parti. Come tutti sapete noi siamo europeisti, nonostante i giudizi che vengono dati sul nostro conto, quello che diciamo è che l'Europa deve essere un'Europa sicuramente più vicina ai cittadini, sicuramente più giusta. Visto dal territorio questa alleanza con la Lega, ci sono più differenze o più punti in comune? Beh, sicuramente ci sono dei punti in comune rispetto anche ai temi nazionali. Vedremo adesso risvolti appunto locali rispetto a temi. In ogni caso, come diciamo sempre, noi rimaniamo sui temi, quindi sugli obiettivi. Chiunque voglia appoggiare misure, come dire, in favore dei cittadini è il benvenuto. Vedremo al Partito Democratico quale atteggiamento avrà nei nostri confronti. Ma ripeto, il nostro obiettivo è comunque migliorare la qualità della vita dei cittadini e quindi qualsiasi appoggio da qualsiasi parte politica arrivi, per noi è il benvenuto.